Un segretario politico del partito che sta dimostrando di avere un grande spessore politico, quindi una linea molto chiara sui valori che sono alla base del partito e come intende portarlo avanti, quindi grande capacità politica, quindi io sono veramente contento della scelta che sta da parte. Ci sono piaciuti i richiami all'uomo povero che non ha mezzi e che può comunque cercare di salire nel… Ma certo, ma certo, guardi se lei mi permette, io sono un esempio di quello lì, perché sono in una famiglia umile che mi sono fatto da solo e quindi ci sono tanti altri che possono seguire questo esempio. Questo significa recepire quello che la gente oggi veramente pensa? Sì, ma significa soprattutto far prevalere il merito e non le raccomandazioni dei figli di papà, sui quali lui ha detto anche lui. Ci riuscirà? Ci riuscirà? È importante avere fermo il principio, poi dopo effettivamente ci sarà da combattere, però con i principi fermi si riesce. Perfetto, la ringraziamo molto, grazie. Grazie a tutti.